Il Palermo è venuto qui a fare il risultato perché è messo bene in classifica e cerca di fare punti e salire come posizioni. Noi siamo stati bravi a tenere duro, a sbloccare la parità nel secondo tempo e poi a non mollare niente fino all'ultimo minuto. Abbiamo portato a casa i tre punti. Più che battaglia è stata una guerra perché sia il clima sia la scuola che avevamo davanti ci ha messo nelle condizioni di lottare su ogni pallone. Abbiamo dimostrato che siamo arrivati prima e abbiamo portato a casa i tre punti che ci portano forza e continueremo su questa strada. Quest'anno dovrebbe essere il mio ultimo anno qui ma bisogna pensare ogni allenamento, ogni partita come dice te bisogna dare tutto. E poi quello che succede il sabato è tutto quello che facciamo durante la settimana. Quindi sempre dare il massimo e poi vediamo cosa succederà.